C'è il primo caso risultato positivo nel comune di Montevarchi, si tratta però di un insegnante residente a Filine Valdarno che però insegna presso il nostro istituto comprensivo Maggiotti alla scuola primaria di Leonardo da Vinci. In base al documento appena pervenuto dall'ASL sono stati messi in isolamento domiciliare per 14 giorni 50 tra bambini, insegnanti e personale scolastico. Ancora una maestra risultata positiva al Covid-19 nel retino in isolamento così studenti, insegnanti e personale dell'istituto scolastico di Montevarchi. L'isolamento scadrà il 17 marzo perché è già iniziato il percorso di allontanamento tra l'insegnante e i possibili contatti con i bambini e con le altre insegnanti. Adesso verranno tenuti sotto controllo quotidianamente dalla ASL affinché rispettino l'isolamento e gli verranno fatti tutti i controlli del caso. Altri contagi anche in provincia di Arezzo. Al bollettino delle 12 e 30 del 13 marzo sono infatti 12 i nuovi casi di coronavirus. Tre le persone risultate positive in città. Si tratta di un uomo di 63 anni già sotto osservazione da parte dell'igiene sanitaria per essere stato a contatto con un altro infettato e due donne di 70 anni, entrambe residenti ad Arezzo, di cui una già un caso noto all'ASL. Due invece casi registrati in Valdarno, una cinquantenne di San Giovanni Valdarno ed un 53enne di Loro Ciuffenna. Un positivo al Covid-19 anche in Casentino. Si tratta di un 28enne di Castel San Nicolò. Quattro casi di coronavirus registrati in Valdichiana. Un uomo di 36 anni di Castiglion Fiorentino, un 54enne di Cortona ed una donna di 44 anni ed un uomo di 46 di Lucignano, entrambi casi già noti essendo stati a contatto con persone risultate positive al tampone. Infine due i contagi in Valtiberina. Si tratta di una donna di 41 anni ed un uomo di 62, entrambi residenti a Badia Tedalda. I contagiati si trovano in isolamento domiciliare sotto stretta vigilanza del personale sanitario. Solo i due pazienti della Valtiberina sono ricoverati nel reperto di malattie infettive dell'ospedale San Donato di Arezzo.